Stanno indagando gli uomini del commisariato di via Sallustio sulla vicenda che vede protagonista un sessantenne di Sulmona, ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale cittadino. L'attività di indagine, avviata dalla polizia, è tesa a far luce su un episodio che resta avvolto nel mistero. L'uomo, infatti, è finito a nosocomio e doveva essere caduto nella sua abitazione. Ma l'incidente domestico poteva costare caro a sessantenne, visto che è stato trasportato d'urgenza, prima pronto soccorso e poi preso in carico da reparto di rianimazione, dove è tuttora ricoverato in condizioni critiche. Con l'attività investigativa, quindi, si vuole escludere qualsiasi ipotesi. Gli inquirenti dovranno infatti accertare se quella caduta è riconducibile a un fatto accidentale, cioè a un mero incidente domestico, oppure se starà provocata da terzi. Ma saranno solo le indagini condotte dalla squadra anticrimine del commissariato ad accertare eventuali responsabilità. Resta però qualche dubbio sulla dinamica dell'accaduto e gli investigatori non vogliono lasciare nulla al caso. L'abitazione del sessantenne è stata ispezionata dagli agenti, che hanno effettuato tutti i rilievi di rito per raccogliere indizi utili alle indagini, ma sul caso si mantiene ancora lo stretto riservo in attesa di nuovi sviluppi.